Il 24 luglio 2022, durante un affollato concerto sulla spiaggia di Brighton, un drone si è schiantato sul palco, vicino al musicista che si stava esibendo. Il pilota, Gilles Dalby, 39 anni, ha perso il controllo del drone mentre lo faceva volare sopra la folla. Per questo uso incauto e negligente, è stato ora condannato al pagamento di una multa di circa 1000 euro. Si tratta del primo caso di questo tipo portato davanti alla giustizia nel Regno Unito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'incidente ricorda come i droni debbano sempre essere utilizzati rispettando le norme per la sicurezza di tutti.